Accoglieremo con gradimento la decisione del CTS di riportare la campienza dei musei al 100% del resto già uno studio dell'Università Politecnica di Berlino uscito in piena pandemia quasi un anno fa confermava che musei, teatri e cinema erano i luoghi di minor rischio, i luoghi pubblici di minor rischio di tutti.